e cominciamo silenzio grazie a tutti per aver partecipato al quarto sociale dell'unpietro carriera prima volta in questa nuova sede 28 partecipanti grazie a tutti i soci grazie a tutti quelli che vengono da altri trattori circoli sono sempre i benvenuti cominciamo a premiare il primo dei non classificati di mauro giuseppe volto fatta grazie premiamo il primo il secondo tra gli over 60 sono due premi non può dire niente il secondo tra gli over 60 ok grazie over 60 grazie 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 e continuiamo con i giovani grazie 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 primo degli under 16 Andrea Barbagallo grazie 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 il terzo classificato dopo un torneo condotto fino all'ultimo turno con molta crinta Andrea Aceto grazie il secondo classificato uno dei favoriti insieme a Fabio Bravuglia deludente quarto posto sempre Toscano grazie ho sperato di questo invece niente primo classificato ed è la prima volta che vince un torneo sociale e questo ci fa molto piacere bravo abbiamo un appuntamento al prossimo evento che organizzeremo per il mese di dicembre 12 dicembre organizziamo un torneo lampo a coppie che è una novità coppie di fat coppie di fat a mezzo quello non si indaghiamo può essere interroge può anche per una coppia diciamo assortita in maniera libera quindi vi aspettiamo numerosi chi non trovasse il compagno come nella vita anche se anche il possibile uno non trova il compagno o la compagna lo accoppiamo noi d'ufficio quindi chi fosse interessato a partecipare si becca io vi avvento che rischiate di beccarmi Simone spagante ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.